E siamo arrivati al 13 febbraio 2019, settimana di San Valentino, cuoricini bacini ma, wow, oggi abbastanza complicato. Cominceremo con un un-rap 3 minuti dove faremo 21 oppure 15 calories low, poi 21 lateral erg burpees e poi il max di overhead squat. Poi 3 minuti di rest, ancora una volta un-rap 3 minuti, 18 calories low, 18 lateral erg burpees e max overhead squat. Poi di nuovo rest 3 minuti, un-rap 3 minuti, 15 calories low, 15 lateral erg burpees, max overhead squat, 3 minuti di nuovo e per concludere un-rap 3 minuti, 12 calorie low, 12 lateral erg burpees e max overhead squat. Se ce la fate, siete veramente bravi, scalature e tutto il resto come al solito sulla grafica qui di fianco, a domani per un altro World.